Facciamo i complimenti al Cocode 104 e alla squadra di Grandissimo Grandissimo Chef Frango Vi stiamo scherzando ragazzi, è questa giornata di fantacalcia andata persa un 6 e mezzo per il mio marchizza Di Gregorio che manco gioca, che allora chi cavolo mette in campo? Il preparatore dica che si porta a casa un 6 e mezzo, più che buono E Scalbini un 5, prestazione veramente da rivedere Sciurse una munizione ma si porta a casa un 6 e mezzo, che non mi sembra male Coppomimers che è stato uno migliore in campo contro la Fiorentina che purtroppo non è riuscito a vincere l'Atalanta Quindi ti porta un bel bottino a casa Samardic, che si debuta male contro il Cagliari che si porta a casa un 6 Fabian con il Bologna un 6 Bairami con il Sassuolo un 6 Pavoletti che torna in campo che ci porta a casa un 5 e mezzo Ma quello ragazzi che mi ha deluso di più è Cavalascheglia Il contro il Genoa si è visto pochissimo 5 e mezzo ragazzi, io ci avevo inizio come minimo 4 Guardi il mio avversario aveva Di Bala che con la Roma ha segnato 2 gol E che contro la Lazio ovvio L'assist di Marco nel derby La grande prestazione di Montipò Di Montipò E Hermas che è così così in bel 4 Un 5 e 2 5 E l'assist di De Ron, madonna di carmi Come è stato accertato Vabbè ragazzi ce la siamo giocati Era da un anno che c'è stato il mio rincampo Complimenti a lui Faraoni 5 e mezzo Marchesa 5 Maszocchi 5 Pusic 5 Ho deciso di mettere Pusic in manchina Maxi Lopez manca che gioco Marquis 1 e 5 Tornano 1 e 5 e mezzo Mi sembra Una soluzione così Fantacaccio Nel giornale Fantacaccio Che è andata Un male Un malissimo Però dai ce la siamo vista Adesso siamo usciti in sesta posizione Se volete vi mostro la classifica Così vi mostro la situazione in cui siamo Prima eravamo quarti Il nostro MFC si è superati Giorgiano e i Boyz sono usciti al sesto posto Pari punti C'era una vera lotta Intanto il signore Andrea Vaso 12 punti Madonna ragazzi I Raguzza arrivano La prossima saranno conti di Raguzza Quindi Ce la dovremmo giocare ragazzi Se no Saremo spacciati Speriamo bene di giocarcela Che dire ragazzi Questi erano i miei risultati a Fantaccio Voi fatemi sapere Come è andata Che dire Una giornata che poteva andare meglio Dai Quindi che dire Cosa è tutto Noi ci vediamo al prossimo video Beh ragazzi Noi ci vediamo al prossimo video